C'è il pallonetto, cacà al volo! Rete! 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 Cacà, incredibile, il Milan in battaggio! Il retondo per Cacà, con il tiro, Cacà, balla il tiro! Cacà, Milan in battaggio! Cacà cerca la percussione, Cacà se ne va, Cacà il tiro! Rete! Cacà un gran gol! Rete! 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 Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Quanto è stato difficile vincere così tanto? È difficile, ma alla fine è molto bello. Quando arrivi fino in fondo un campionato come questo, l'italiano, una Champions League mondiale del club o mondiale della FIFA, è molto divertente quando tutti i sacrifici che ho fatto adesso vengono ripagati per questa vittoria. Poi sono cose che portano uno a diventare un signore del calcio. Sì, sì. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti